Sono molto arrabbiato, molto, 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 molto. Sono molto arrabbiato perché quello che si è visto, cioè è impossibile non vedere, l'hai fischiato, perché se non avessi fischiato il rigore, io dico, capisco, ma nel momento in cui l'assistente di linea ha un centipo, l'uomo lanciato a rete, viene falciato, concedi il rigore e non puoi non ammonire il giocatore che era già stato ammonito. Hai ammonito Bellotti a centrocampo, per un fallo assolutamente insignificante a centrocampo, non hai ammonito tre falli consecutivi di Bonucci su Maxi Lopes, che stava partendo quasi, allora diventa obiettivamente difficile. Questo non va a giustificare, finisce la partita, il derby vinto la Juventus, bisogna prenderne atto e nessuno dice una parola, però ribadisco il concetto che al quindicesimo della ripresa, per quello che è successo in campo, il Torino deve essere in parità con la Juventus, con un uomo in più. Poi il resto non lo possiamo sapere.